bene tanto per cambiare ormai ogni argomento importante solo che se lo dico sempre sembra che veramente non è importante ma questo è veramente veramente importante allora voglio parlare adesso con te Lorenzo del come rimanere concentrati durante lo studio questa è un'altra cosa importante va importantissimo studiare importantissimo programmarci sono importanti soprattutto ma ci sono dei mezzi degli strumenti che possiamo utilizzare per evitare di distrarci perché oggi è veramente difficile e apro parentesi io non so chi ringraziare di essere riuscito a fare le superiori senza facebook senza instagram senza tiktok perché sei già stata dura senza quelli con tutte queste distrazioni ti giuro non mi sarei mai più diplomato veramente veramente perché e cioè ma vi immaginate cosa significa studiare una pagina di storia di cui non te ne frega niente ed avere lì magari sei innamorato e della tua compagna di classe con la postaccia secondo me veramente è un incubo ecco oggi siamo in un'altra era e anche quando sogniamo il piano ci sono queste distrazioni hai degli strumenti tutto essenzialmente come fai cosa fai allora io un po mi associano che dice nel senso che quando ho avuto gli anni più più importanti più fondanti e mio percorso pianistico c'erano questi social ok però io ho fatto una scelta molto drastica e non so se consigliarla oppure no però io non avevo i social non c'eri sui social non c'ero proprio contro tendenza un po anacronistico un social solo che è goodreads che dei libri che nessuno mi ricordo mi ricorda questa cosa la ricordo e non è un social vero quindi io ho sentito che per me sarebbe una distrazione e volevo dare il 101 per cento alla musica e quindi i concerti che li faccio che facevano sopra nessuno andavo in giro e non mettevo nulla certo ma era più importante per me a scendere in profondità nella musica e me stesso chiaramente quando poi hai formato un po il tuo spirito puoi resistere anche a tentazioni e quindi oggi di uso anzi adoro Instagram è molto molto bello molto utile lo usi proprio anche per lavoro no? Anche per lavoro è una cosa bellissima la vita è meglio però Instagram è molto bello a proposito di social posso fare una piccola parentesi e no che a volte anche i social sono diciamo deleteri perché tu magari vedi un pianista che mette un'esecuzione di un minuto di un brano difficilissimo e tu dici cosa ci vuole a fare quella cosa in un minuto poi ci provi tu non ci riesci no? in realtà lì dietro c'è stato tanto 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 studio che tu non puoi vedere perché proprio è il social stesso che non ti permette di caricare magari video più di un minuto no? E quindi questa cosa del breve che acchiappa subito veloce però è dall'altra parte a livello didattico diciamo non è granché perché sembra che tutto esce sempre buono alla prima tutto facilissimo e quindi può anche magari un attimino deviare ma secondo me l'aspetto della concentrazione è interessante perché la musica ci permette di svilupparla molto ad esempio una cosa che noto è che mediamente i musicisti hanno una capacità di ascolto anche nelle conversazioni che è molto molto elevata perché sono abituati a anche lunghezze di spande e attenzioni molto molto ampie perché per loro un brano di mezz'ora è un'unità comprensibile è vero al giorno d'oggi non per tutti se pensi che la musica pop viaggia su tracce di due minuti ormai e che erano quattro qualche anno fa qualcosa significa comunque in fase di studio io cerco di fare di applicare questa cosa ho provato tantissime tecniche c'è un'applicazione molto interessante che si chiama productivity timer challenge qualcosa del genere che ho usato per tanti anni in passato non ve la consiglio però nel senso ne ho provate tantissime anche tutto ciò è comunque fuori da te e ha un valore nel senso che può aiutarti a avere consapevolezza che è poi l'obiettivo finale ok personalmente ho un semplicissimo principio che guida le mie sessioni di studio ossia sì le pianifico ma senza che questo diventi troppo rigido perché sennò dici ok magari senti che non hai quella concentrazione e devi però farlo perché hai scritto ok 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 potrebbe rientrare addirittura controproducente l'idea che mi guida è una sola ossia mi metto lì a studiare se mi accorgo che in quella sessione comincio a magari suonare una cosa non bene come vorrei è troppo veloce o addirittura ad accendare un altro pezzo perché può succedere no? che la mente parte e dice ma poi devo fare quell'altro quello per me è subito un segnale da intercettare dire ok sono stanco per questa sessione lo accetto mi alzo faccio uno snack faccio un giro faccio altro medito un attimino ma non cercare di remare contro e di abituarti a usare soltanto il meglio del meglio della tua concentrazione e quando declina accettarlo e poi ripartire magari 5 minuti dopo e già è un altro mondo e appunto gli strumenti esterni possono essere utili ma un timer comunque non tiene conto delle effettive fluttuazioni che puoi avere in quel giorno lì chiarissimo quindi il timer è un dia di massima è un timer che deve venire dentro di te certo e basta appunto allenarsi a riconoscere il primo segnale di cedimento all'attenzione e dire ok grazie per aver fatto questo sforzo fino adesso pausa e poi ricominciamo chiaro pause sono fondamentali avevo letto nel libro si chiama Il pianoforte di Casella è stato uno dei più grandi pianisti del passato e non mi ricordo che in quel libro parlava di lui o di un altro grande pianista adesso mi sfugge però mi ricordo benissimo questa frase tant'è che poi l'avevo applicata lui diceva che lui o chi per lui adesso scusate non mi ricordo esattamente la citazione diceva di non aver mai studiato più di 4 ore in un giorno 4 ore è il massimo che ha fatto in un giorno e queste 4 ore erano divise in questo mondo mezz'ora di suono e mezz'ora di pausa quindi in realtà erano 8 ore intervallate tra suono e pausa ecco quando ho fatto lo studente di conservatorio che essenzialmente avevi tutta la giornata libera per fare questo e sicuramente non è il caso vostro nel 99% dei casi non avete 8 ore di tempo per studiare il piano però io vi riporto la mia persona esperienza seguendo questo consiglio era bellissimo era bellissimo perché mezz'ora suoni e in mezz'ora dopo devi interrompere quindi non fai in tempo quasi a fare nulla in mezz'ora però devi interrompere quindi hai ancora voglia di suonare e dire cazzo però devi interrompere quindi andavo al computer leggevo qualche email facevo qualcosa telefonata mezz'ora vai riprendo ah che cos'è che avevo fatto quindi ora che capisci che riprendi e tutto finita la mezz'ora pausa e passano queste 8 ore che è una bellezza e credo che ottimizzi veramente la salute di studio come dicevamo prima cioè studi e le pause sono importanti che si sedimenta il pezzo e quando avevo la possibilità di studiare così tanto e di prendermi anche così tante pause era secondo me il metodo di studio essenziale anche a livello di concentrazione perché anche un bambino riesce a tenere la concentrazione per mezz'ora e quindi era secondo me in definitiva la procedura essenziale è chiaro dobbiamo proiettarci all'interno del mondo normale delle persone che hanno una vita e anche io oggi non ce la farei a seguire questo ritmo però posso raccontare la mia esperienza che è veramente qualcosa di fenomenale quindi aggiungete pause tante pause anche piccole ma queste aiutano veramente a riprendersi perché è noi ormai